Io temo fortemente che noi stiamo apparecchiando la tavola per la troica e per l'antipolitica. No, non è tanto la malinconia, è il problema del prendere atto con preoccupazione che l'evoluzione del dibattito politico, il confronto fra le forze politiche risulta essere assolutamente al di sotto di quelle che sono le attese del Paese e soprattutto dimostra ancora una volta di non cogliere effettivamente cosa succede nel mondo, soprattutto nell'epoca della post-verità, del superamento delle ideologie che non consente più con artifici di far diventare in un Paese maggioranza-una minoranza. Questo è un elemento fondamentale se noi vogliamo davvero porci il problema di come contrastare questa antipolitica che resiste anche a qualunque vicenda romana, tanto per semplificare, per capirci. Noi siamo di fronte ad una sfida che anche e soprattutto nella prospettiva della prossima legislatura dovrebbe indurre invece questo Parlamento in questa fase conclusiva a porsi l'interrogativo reale con uno spirito di servizio che purtroppo ogni giorno si vede sempre più smarrito, con un'etica della responsabilità di cui io non sento mai parlare più quasi da nessuno, con un occhio rivolto all'interesse generale vero del Paese che è anche questo un concetto molto smarrito, se noi vogliamo dotare il Paese di una legge elettorale per il Paese o per le nostre convenienze, più o meno legittime per carità, ma per le nostre piccole convenienze. Se noi non sciogliamo questo nodo e non prendiamo atto soprattutto che siamo in una dimensione che ci pone delle sfide nuove rispetto all'epoca di un maggioritario Cesare tutto sommato superato, lo dico in particolare al mio amico Guzzetta che è affezionato a quest'idea da illo tempore, noi andiamo verso, dobbiamo andare necessariamente verso un sistema che fotografi il più possibile la volontà del corpo elettorale e il popolo deve essere rilegittimato come sovrano reale del Paese, tentativo che è stato inficiato in tanti modi in questi anni, secondo me commettendo la politica un errore. Io mi stupisco di chi si stupisce, lo dico sotto voce, dell'invadenza della Corte Costituzionale. Non so chi di voi ricorderà, io nel 2007-2006, certamente Lippolis, ero sottosegretario alle riforme con Vannino Chiti e dissi un'ovvietà un giorno ad un giornale e cioè che la Corte assume decisioni anche sulla base di valutazione politica. A me era sembrata un'ovvietà. Lo disse anche qualcun altro dopo qualche giorno in polemica con noi si dimise un giudice della Corte Costituzionale contestando violentemente questo assunto. Ora mi sembra ovvio che anche in questa circostanza e anche le difficoltà che si riscontrano in alcuni passaggi della sentenza, più ariosa o meno ariosa, detto il mio amico Alfonso, dimostra che il dibattito all'interno della Corte è stato un dibattito squisitamente politico con legittime visioni contrapposte e alla fine sui singoli punti hanno assunto decisioni a maggioranza. La cosa che, e chiudo che sto finendo il tempo, la cosa che mi ha lasciato perplesso da questo punto di vista è proprio questa vicenda dei capilista bloccati che francamente io trovo una norma a difesa della casta e un grande regalo all'antipolitica. Così come le pluricandidature finiscono con l'essere un regalo ai leader senza voti, diciamo così per dire, e così del resto era stata concepita. Queste cose la gente, a mio parere, non le accetta più. in questa epoca capisco che ci sono le preoccupazioni sul sistema delle preferenze in relazione a questa nuova legislazione, a queste norme che ci siamo date per cui è tutto molto a rischio, soprattutto nel centro-sud con una presenza della criminalità organizzata sempre più invadente e che quindi tenta a ingerirsi ancora di più nel sistema politico. però, amici miei, se noi non troviamo anche qui un sistema attraverso il quale in maniera legittima il popolo decide di essere rappresentato da zizio anziché da caio senza forzature di sorte senza automatismi, io credo che si impoverisce la democrazia e questo non è un bene per nessuno, soprattutto per un paese che deve e può avere un grande futuro solo se si ferma un attimo a riflettere in maniera davvero costruttiva e per una volta abbandonando gli interessi di parte.